Quando hai parlato di Maradona, io lo voglio dire apertamente perché è un fatto che mi porto sempre da tanti anni. Io a Maradona, io ho fatto parte degli Ultras della Curve B all'epoca e i primi giorni che venne Maradona, io li ho fatto da autista per 15 giorni, poi ci ho fatto da autista 20 giorni, poi passarono a 30 e facevo tardi alle prove, sempre, tardi, quasi ogni giorno. La signora Conte mi chiamò, stava Nino Taranto pure davanti e disse che cosa vogliamo fare? O scegli Maradona o scegli il teatro e a malincuore, però con una certa sempre gioia nel cuore, scelsi il teatro, però con la somma sapienza di Maradona ha fatto parte del mio cuore e ha fatto parte della nostra Napoli e poche persone, pochissime persone conoscono il Maradona che è stato il grande campione, ma come un uomo era eccezionale, eccezionale. Grazie a tutti e buona giornata, grazie.